Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. La Serie A non sta passando un bel momento. I vertici che comandano questa associazione per delinquere di stampo calcistico non stanno nemmeno passando un bel momento. Arrivano le prime richieste di dimissioni per un personaggio che abbiamo visto in copertina, che ormai è nella bocca di tutti. Abbiamo visto le sue scelte, soprattutto il modo di giustificare determinati errori quando andavano a toccare una squadra e il modo invece di insistere con il fatto che magari l'arbitro in un'altra occasione abbia aiutato una squadra, magari la Juventus, e quindi il rigore non dato a Bologna diventa un rigore solare. Quattro turni di squalifica, lo abbiamo già detto tante volte, per quanto riguarda l'arbitro che arbitrò quella partita senza andare minimamente a ricordarsi di quello che è successo come episodi a sfavore della Juventus, due rigori e un gol annullato, ma quello non conta niente. Attenzione perché ci ricordiamo una partita, la partita che ha dato il via a tutto quello che sta succedendo ora, perché se adesso arrivano le richieste da parte di Iervolino, il patron della Salernitana, dopo aver perso contro il Napoli con delle occasioni, con degli episodi diciamo molto molto discutibili, quindi adesso c'è da prendere in considerazione anche la possibilità che Rocchi, se si insiste con questo modus operandi, sia messo con le spalle al muro e debba dare le dimissioni. Lui che punta a un'oportuna più comoda, dove si guadagna di più, dove si può decidere di più, un po' come sta facendo Gravina, che da presidente della federazione interista gioco calcio, è diventato vicepresidente della UEFA e il braccio destro di Ceferin, che è colui che manovra un po' il calcio europeo. Detto questo andiamo a leggere e a capire effettivamente che cosa è successo per quanto riguarda proprio la richiesta da parte di Iervolino, perché vi ricordate nella partita Inter-Napoli dove c'è stato qualcosa che ha fatto storcere il naso dell'Aurentis, la lamentera che è arrivata dopo la sconfitta contro l'Inter, la telefonata ai vertici AIA e FGC, l'arbitro poi ricordiamo di quella partita è stato promosso per quanto riguarda l'operato nei confronti dell'Inter, naturalmente la Marotta League, ma bocciato per quanto riguarda il Napoli, quindi nella stessa partita viene promosso e bocciato. La richiesta di De Laurentiis viene accolta e quindi viene fatto un fermo all'arbitro, che proprio fermo non è, perché va a arbitrare Parma-Palermo in serie B. Attenzione perché dopo quella telefonata succedono delle cose strane, succedono degli episodi a favore del Napoli che non vengono mai evidenziati, ma comunque portano sempre i tre punti fino ad arrivare alla goccia che fa traboccare il vaso. Qual è? È proprio la partita Napoli-Salernitana, il derby, il derby del sole, perché a Napoli c'è sempre il sole. Allora che cosa succede? Succede che il patrono Iervolino ha i microfoni dopo quella partita, decide di sfogarsi e racconta praticamente il suo pensiero. Nel suo pensiero c'è che in questo arbitraggio, in questo modo di arbitrale, ci vede anche lui della malafede. Ricordiamo che prima di lui ci fu un altro a dire queste parole qua, che ricevette, ha ricevuto e adesso ne pagherà le conseguenze, un richiamo da parte del PM Kine. PM Kine che sa quando si deve muovere e che sa quando deve stare zitto. Ricordiamo anche l'intervista fatta da Sergio Vessicchi, dove gli chiede per quanto riguarda i debiti dell'Inter e lui dice che a questa domanda non può rispondere, c'è il veto di risposta per quanto riguarda l'Inter. Invece per la Juventus tutto sulle prime pagine dei giornali. Che cosa succede? Succede che il Napoli comincia a ricevere quello che aveva chiesto. La telefonata di De Laurentiis ha avuto i suoi frutti. Il Napoli sta ricevendo anche lei, anche se si lamenta, qualche aiutino che poi porta alla lamentela da parte dei tifosi delle altre società perché ci vedono del marcio in questo. Ed ecco che dopo le lamentele anche dei tifosi, non solo della Juventus ma ormai del Milan, della Lazio, della Roma, anche quelli del Napoli, arrivano le richieste di dimissione. Naturalmente non verranno mai accettate, naturalmente questo campionato continuerà così, questo lo sappiamo tutti, giustamente è un purparretto e fa capire a tutti fino a che punto siamo arrivati. Siamo arrivati che ormai nessuno accetta più. Anche se le parole di Filippo Inzaghi, il fratello di Simone, allenatore dell'Inter, Filippo invece allena la Salernitana, dopo la partita contro il Napoli, dopo aver perso punti contro il Napoli, a detta del suo presidente, con uno scempio, con un episodio che è grave a detta sua, va ai microfoni e si lamenta per la mancata espulsione di Gatti nella partita precedente contro la Juventus e cristando totalmente su quello che è successo contro il Napoli, cosa che invece non fa Iervolino, che chiede a gran voce le dimissioni di Rocchi. Rocchi che, come detto prima, difficilmente lascerà questa poltrona perché è stato messo lì anche per portare avanti un protocollo scritto dall'alto, che fino a questo momento è stato rispettato pagina per pagina. Abbiamo ascoltato anche Rocchi a Open VAR e ogni volta che Rocchi parlava degli episodi ormai inspiegabili che stanno succedendo e del fatto che il VAR in alcune partite interviene e in altre partite invece si mantiene in silenzio, trovava sempre una giustificazione, fino ad arrivare al punto da non aver più nulla da dire davanti all'evidenza, anche lì sono finite le scuse e allora passa al contrattacco. Il contrattacco è basso attacchi agli arbitri perché altrimenti ci troveremo costretti ad agire in maniera punitiva, un po' come è stato fatto nei confronti degli arbitri, anzi di coloro che accusavano gli arbitri non solo, quando la Juventus vinceva sono stati tutti praticamente indagati, tutti praticamente perseguitati per questo comportamento. Per la verità non lo hanno mai fatto. È la prima volta che sentiamo un PM che interviene per le parole di un presidente dopo una partita, quando noi, giuventini, ne abbiamo sentite di tutti, addirittura abbiamo visto anche presidenti che non facevano scendere in campo per la premiazione di Coppa Italia, la squadra dichiarando a tutti i microfoni di essere stati derubati dalla Juventus. Detto questo, che cosa possiamo dire? Se non che ormai siamo arrivati al clou di questo campionato e dobbiamo naturalmente continuare a informare, continuare a capire che cosa sta succedendo, la richiesta delle dimissioni per quanto riguarda Rocchi non sarebbe una cosa malvagia perché abbiamo visto che ormai sono saltati fuori gli altarini, si è scoperto tutto, anche lui stesso non sa più che cosa dire, ma ci aspettiamo naturalmente un intervento nei confronti proprio di Iervolino da parte della Federazione Interista Gioco Calcio che quando si vanno a toccare gli arbitri che naturalmente fanno quello che è scritto a protocollo e entrano a gamba tesa in difesa degli arbitri, quando invece l'episodio contestato come quello del Bologna contro la Juventus va a favore della Juventus, attenzione che lì vale tutto, si può dire tutto, tutto questo anche, grazie, chiudiamo il video, a John Elkan che rimane sempre in silenzio nonostante tutto quello che passa sui giornali e sui media, a differenza di Marotta che parla in continuazione addirittura si inventa pure le famose telefonate con Zhang quando Zhang era detenuto nelle patrie galere, però c'è lo stile Juventus che è quello di stare in silenzio e accettare tutto, lo stile dell'Inter è quello del chiagni e fotte che praticamente lo abbiamo visto come funziona, la Marotta League ormai è chiara a tutti, Rocky comincia a tremare no perché se ne frega delle richieste di un piccolo iervolino che chiede le sue dimissioni, però comincia un pochettino a vedersi i piedini bagnati arriva l'acqua anche in casa Rocky perché ormai è chiaro a tutti che questo campionato vedendo gli episodi lo stanno decidendo loro, detto questo il video finisce qua, se sei arrivato fino a qua sei un supereroe, non ti rimane che mettere un bel like e commentare con il tuo pensiero condividi a manetta questo video e speriamo che il signore del caccio accolga le preghiede di qualcuno e che in questa associazione per delinguer di stampo calcistico vengano messe delle persone pulite e sane e non dei tifosi che scelgono quando intervenire e come intervenire detto questo il video finisce qua, io vi saluto, alla prossima e ciao a io